eccolo qui lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia diventerà un piccolo gioiello Daniele Sebastiani state lavorando per questo per avere in gestione l'impianto oggi c'è stato un incontro molto importante in comune intanto sì è l'ennesimo incontro che facciamo in comune perché chiaramente è un progetto importante che intanto ci tengo a precisare e non riguarderà sicuramente la pesca da calcio perché sapete che questo sarà un progetto oggetto di un bando pubblico europeo e quindi potrebbe arrivare chiunque a fare questo diciamo che siete fortemente interessati noi siamo interessati ma siamo interessati soprattutto alla parte sportiva perché intanto le linee guida della federazione vanno in una direzione che fra qualche anno gli stadi dovranno essere stadi di calcio lo sono già stati ed è stato già recepito per quanto riguarda quegli stadi che hanno la pista di ciclismo, diciamo il velodromo e che non potranno più fra un paio d'anni essere stati di calcio ma dovranno adeguarsi da questo punto di vista e la linea guida sarà anche quella nei confronti delle piste di atletica quindi si va sempre di più verso la direzione nella quale ci si trova di fronte a dei veri complessi dedicati al calcio e quindi il Pescara ha uno stadio che attualmente è a norma per quanto riguarda le partite di calcio ma nel futuro potrebbe avere questo problema allora in questa ottica si inserisce questo studio della B Futura che è una società della Lega di B che si occupa appunto delle infrastrutture che è chiaramente coadjuvata in questo senso da fiordi professionisti che si occupano nel mondo della costruzione di stadi e abbiamo messo in piedi questo progetto che presenteremo come preliminare, come bozza di preliminare e come studio di fattibilità spero entro la fine di quest'anno al Comune di Pescara a quel punto il Comune di Pescara avrà 90 giorni di tempo per vedere se c'è interesse pubblico in un discorso di questo tipo e da quel momento partirà l'iter amministrativo che porterà all'apertura di un bando e eventualmente all'aggiudicazione a quegli imprenditori e a quegli investitori che saranno interessati a realizzare l'opera per quanto ci riguarda come Pescara noi siamo fortemente interessati alla parte sportiva perché è chiaro ed evidente che dare uno stadio di calcio ai nostri tifosi, a tutti quelli che sono gli appassionati di calcio con servizi, comfort, maggiore sicurezza impianti tecnologici di ultima generazione sicuramente non può far altro che piacere a chi ama il calcio e soprattutto portare ancora più gente allo stadio per vedere sempre più uno spettacolo che si avvicini a quello europeo del mondo del calcio E comunque insomma avete fatto un piccolo passo in avanti è chiaro, abbiamo già parlato con l'assessore Diodati ci sarà questo bando fate bene insomma a sottolineare questo aspetto se dovesse essere costruito insomma i lavori potrebbero partire nel 2018 o meglio nel 2017 perché insomma ci sono tante cose prima da rispettare lo stadio nuovo, il gioiello dell'Adriatico Giovanni Cornacchio che avrà lo stesso nome intanto Ma questo adesso è un qualcosa che è tutto da vedere perché comunque io onestamente non conosco perfettamente come sarà poi il bando di gara quello che prevederà quindi su che base chi risponderà avrà maggiori possibilità di aggiudicarsi questo bando per cui la cosa importante adesso è portare avanti l'iter e arrivare al punto che l'ente possa bandire questa gara dopodiché si vedranno gli altri aspetti sicuramente i tempi di realizzazione nel momento in cui si dovesse partire non saranno inferiori ai 15-18 mesi questo significherà quando sarà se succederà che probabilmente per un periodo per una stagione il Pescara dovrà trovarsi una sistemazione per fare un campionato però ribadisco anche se è un grandissimo sacrificio per tutti quanti onestamente a vedere un po' il preliminare del progetto che ci hanno portato oggi devo dire che ne varrebbe veramente la pena Ecco, volevo chiedere Presidente intanto diamo qualche numero lo scioriniamo è un'operazione che costerà 40 milioni di euro Sì, questo è l'investimento che lo studio di fattibilità ha tirato fuori come numero perché è chiaro che si tratterebbe di ricostruire da capo la struttura si tratterebbe di costruire una parte relativa a parcheggi che sono circa mille posti auto dei quali poi la cittadinanza usufruirebbe anche nei momenti in cui lo stadio non è aperto a livello di stadio di calcio ma sarebbe una bella ricaduta per tutta quanta la città per tutto quello che è la riqualificazione di uno stadio che sicuramente non è tra i peggiori che c'è in Italia ma si allontana da quelli che sono gli standard degli stadi internazionali di stadio di calcio Il Pescara sosterrà questo investimento attraverso il credito sportivo? Ma il Pescara, Massimo, il Pescara sosterrà questo investimento è una parola grande Noi adesso se dovesse succedere quanto stiamo portando avanti bisognerà trovare degli investitori che sono in grado di sostenere questo investimento ripeto, noi non siamo interessati alla struttura in sé per sé Noi siamo interessati a che si faccia lo stadio perché come Pescara Calcio teniamo la parte sportiva è chiaro e evidente che per noi sarebbe importante avere uno stadio tipo lo Juventus Stadium dove chiaramente i tifosi vengono hanno tutti i servizi diciamo che sono invogliati a venire allo stadio perché non ci sarebbe più il problema della copertura perché non ci sarebbero tanti problemi che oggi chi deve venire a vedere una partita del Pescara ha e quindi questa è la cosa più importante per noi Per capire bene, per la parte solo sportiva a cui sareste interessati mettiamo sempre il condizionale l'investimento sarà inferiore? No, no, ma l'investimento è da guardare nella globalità quindi noi dovremmo essere bravi a cercare di trovare degli investitori che insieme a noi fanno questa operazione noi non siamo oggi nella condizione di poter da soli come Pescara sopportare un investimento di questo tipo qui quindi né tantomeno io come imprenditore singolo né tantomeno i miei soci quindi bisognerà trovare la forma per finanziare questo impianto che poi è chiaro che a regime si pagherebbe dal punto di vista proprio dei rientri perché è chiaro che quella sarebbe una struttura che avrebbe la possibilità di vivere sette giorni alla settimana e quindi dare i giusti ritorni a chi ha fatto l'investimento Come una forma di finanziamento del credito sportivo sì o no? Una parte del finanziamento di quest'opera sicuramente verrà fatta con il credito sportivo che ha stanziato per la costruzione di due impianti circa 100 milioni per quanto riguarda la serie B Di progetti attualmente in cantiere ce ne sono due o tre tra cui Pescara, Cagliari e mi sembra Avellino e quindi ci sarebbe spazio per poterli finanziare però tutto questo passa anche per l'acquisizione della restante parte che ci vorrebbe per finire l'opera però ripeto quello che sarebbe veramente importante per la città sarebbe anche la ricaduta dal punto di vista anche occupazionale perché comunque una struttura di quel tipo permetterebbe di occupare tanta gente lì a lavorare quello che sarebbe ulteriormente importante sarebbe quello di prepararsi al discorso futuro che prima o poi ci sarà adesso magari non sarà fra un anno sarà fra due ma prima o poi qualcuno dovrà mettere mano a quello stadio e sistemarlo e certamente l'ente non è nella condizione di poterlo fare e l'altra cosa importante che non è assolutamente da trascurare sarebbe il fatto che si costruirebbe uno stadio che sarebbe UEFA Euro 4 che consentirebbe di ospitare allo stadio di Pescara tutte le manifestazioni sportive internazionali ad eccezione della finale di Champions League o della finale di Europa League dove ci sarebbero solo dei limiti di dimensioni a livello di posti dello stadio per cui mi sembra che per l'Europa League e Champions League ci vogliano 50-70 mila posti ma questo consentirebbe alla città di fare un salto di qualità enorme come dici tu non trascuriamo il fatto che l'Italia è candidata per i giochi olimpici del 2024 e questo significherebbe avere veramente una grandissima possibilità come stadio ospitante per le manifestazioni senza trascurare le ulteriori manifestazioni non solo quelle del calcio ma i concerti o quello che si può realizzare in uno stadio appositamente costruito senza creare danni quando viene utilizzato la cosa più importante e finisco sarebbe quella di avere uno stadio senza più barriere ma con una sicurezza secondo me anche superiore per via delle nuove tecnologie che entrerebbero in questo stadio quindi ci sarebbe veramente la possibilità di fare tante cose in una per migliorare la fruibilità dello stadio per tutti quindi